Merita Business Podcast, episodio numero uno. Diciamo, trasforma la tua passione in lavoro. No, non basta, ahimè, mi spiace. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Il podcast in cui scopriamo come usare internet per far crescere il nostro business. Vuoi lavorare da qualsiasi computer come se fosse il tuo? Con Safety Cloud Virtual Desktop puoi lavorare comodamente con le tue applicazioni, i tuoi dati e il tuo desktop su ogni dispositivo. Anche mobile. Visita safetycloud.it slash merita per provare Safety Cloud ed avere così diritto allo sconto esclusivo riservato ai follower di questo podcast. Benvenuti su Merita Business Podcast. Io sono Giorgio Minguzzi e sono veramente felice di avere con me ospiti di questa primissima puntata Francesca Marano, una madrina di eccezione. Francesca è l'autrice del libro Chi ha paura del business plan? Edito dalla casa editrice Zandegu e quando non scrive fa siti. Vede gente e risolve i problemi di business. Francesca insegna inoltre tutto quello che ha imparato su come far quadrare i conti di un'azienda, di un business e ha fondato Casa più Bottega, C più B, che è il luogo preferenziale per incontrare imprenditrici creative italiane, un blog multiautore che parla di donne e di donne improprio. Come se non bastasse, Francesca è il cuore pulsante della WordPress Meetup di Torino ed è una delle volontarie più attive in Italia della WordPress community. Francesca, benvenuta su Merita. Quali sono le cose importanti che non ho detto e che gli ascoltatori dovrebbero sapere su di te? Ciao Giorgio, grazie mille. Sono contenta di essere la madrina di questo podcast. Altre cose, sono torinese, si sente alla prima vocale di solito, la prima è che dico, se ne accorgono tutti, che sono di Torino. Ho 41 anni, sono sposata, ho un figlio di 9 anni, ho la passione per i numeri e per i bit fin da quando sono bambina, perché sono figlia di programmatori antichi. Una tradizione di famiglia. Una tradizione di famiglia, sì, 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 come i Gianduiotti da altra parte. Beh, del resto, anch'io ho origini piemontesi, anche se solo per combinazione. Nel senso che sono nato a Ivrea perché mio padre lavorava lì, però io sono, ahimè, fortuna, romagnolissimo. Io ho avuto proprio il desiderio di averti qui per registrare la prima puntata, perché hai scritto un libro che è a me che hai aiutato per primo, cioè nel senso che io nella transizione tra dipendente e libro professionista, è stato fondamentale imparare a fare un business plan e avere a che fare, buttare sulla carta dei numeri per la mia impresa, cioè valutare tantissime cose. E il tuo libro, senza ammorbarmi di fagine come un libro universitario, mi ha dato quegli strumenti per poter fare il mio business plan anche senza avere un background tecnico. Per cui la prima cosa che mi è venuta in mente è che come prima puntata per un business podcast, parla appunto di business, è un passo che è quello del business plan che moltissimi non fanno. Quindi la mia prima domanda è come sei arrivata a parlare di business plan? Ci racconti un po' la tua storia, la storia che ti ha condotto su questo argomento? Sì, la mia è una storia dell'orrore perché io a un certo punto della mia vita io ho fatto la dipendente per tantissimi anni con grandissimo godimento. A me piaceva tantissimo lavorare in azienda, non ho mai avuto sogni di gloria di lavoro indipendente all'epoca. A un certo punto della mia vita mi sono trasferita in Israele, mio marito è israeliano, abbiamo preso su tutta la famiglia e ci siamo trasferiti a Cesarea che è un ridente paesino sulla costa israeliana molto bello e ho capito che i miei lunghi anni in azienda e la mia figura professionale in Israele non era così ricercata. Per puro caso e fortuna mio marito mi ha regalato dei soldi che ha vinto facendo causa al suo esploratore di lavoro italiano che non gli voleva pagare la liquidazione. e siccome lui è un uomo meraviglioso mi ha detto ti regalo questi soldi, non pochi, 12 mila euro per far partire la tua attività. Un tesoretto. Un tesoretto. Mi ha detto ti regalo questi soldi, fai partire la tua attività. Io in otto mesi sono riuscita a spenderli tutti, questi soldi, sono riuscita a spenderne altri duemila che poi mi sono fatta prestare da mio padre per rientrare dal rosso in banca, quindi ho speso 14 mila euro e ne ho incassati circa 3 mila. Sgomento. Per fortuna il mercato del lavoro israeliano è molto molto dinamico, quindi io nel giro di pochi giorni mi sono trovata un lavoro da direttore amministrativo che era quello che più facilmente riuscivo a fare in Israele nella zona in cui abitavamo e però a quel punto ci avevo il tarlo di fare una cosa mia. Mi era piaciuta questa idea di poter esprimere le mie capacità proprio a livello personale e non sempre all'interno di un'azienda in cui magari poi non sempre vengono riconosciute queste competenze. E comunque certi bisogni ci sono, quindi quando nascono fuori fai fatica a gestire. Esatto, e quindi ho iniziato, ho ripercorso quegli otto mesi per capire dove avevo sbagliato e ho capito di aver sbagliato in una cosa che sembra banale ma non lo è, ovvero non avevo un piano, non avevo un piano di nessun tipo, cioè era un lavoro a giornata. Mi chiami e hai bisogno di un sito, benissimo, te lo faccio, se il giorno dopo mi chiama un altro cliente magari gli dico di sì perché ho bisogno di fare fatturato, magari gli dico di no perché ho troppo lavoro, però senza mai una prospettiva anche di breve termine. Ecco, perché mentre nelle aziende il business plan di solito si fa su una durata 3-5 anni, secondo me va benissimo per un freelance anche fare un piano di 1-3 anni, però bisogna farlo. Mentre se non si ha un piano, se non si sa cosa si offre, se non si sa a chi lo si offre, a quale prezzo, quanti soldi dobbiamo portare a casa, è proprio un po' difficile e soprattutto peggio ancora che è un'altra cosa che tanti freelance non fanno, non ha un meccanismo pur rudimentale di contabilità per cui banalmente non si tiene sotto controllo quanti soldi si spendono e quanti soldi si incassano, è un po' difficile. Finalmente ho capito il mio errore, mi sono messa a fare il business plan, le cose sono andate bene, molto bene, tanto che nel giro di pochi mesi ho potuto di nuovo mollare il mio lavoro da dipendente per farla freelance e a quel punto mi è venuta anche la voglia di spiegarglielo ai miei amici che in tanti casi vivevano situazioni analoghe, per cui magari liberi professionisti con grandissime capacità, quindi grandissime competenze ma scarse capacità di gestione proprio dell'aspetto più amministrativo, gestionale di un'azienda. Questo lo capisco bene e ti ringrazio molto perché credo che dobbiamo essere grati a tutte le persone che sbagliano al posto nostro, nel senso che alla fine hai fatto un percorso per quanto doloroso ci hai regalato comunque un libro che a me ha aiutato ma ha aiutato anche tantissime altre persone per cui non è stato tempo perso, non è stata così fatica buttata via. Io quello che volevo chiederti è che ho lavorato in molte aziende e quasi tutte non avevano un business plan però dicevano di avere un business model. Qual è la differenza tra il business model e il business plan? Ah, allora, il business model è appunto un modello in cui si studiano dei flussi ovvero, per dare una definizione un po' classica, come un'azienda crea, diffonde e cattura valore senza dire quanto è questo valore. Quindi si studiano le infrastrutture dell'azienda si mettono anche giù delle cifre ma non si entra nello specifico ad un livello così granulare come il business plan che invece è il documento esecutivo cioè si prendono le cose che si studiano nel business model si capisce tutta una serie di cose base e poi si mettono giù dei numeri e si fa un piano per come raggiungere questi numeri. Quindi sono due documenti separati che hanno tantissimi punti in comune in realtà poi si prendono le cose che si sono analizzate nel business model e si trasformano in un business plan. Io personalmente sono una che ama mettere le mani in pasta e fare le cose e quindi questo doppio passaggio mi angosciava un po' e allora ho fatto direttamente il business plan magari approfondendo determinati capitoli e determinate analisi che sono più propriamente del business model scusami ma ho cercato di farle tutte insieme per lavorare una volta ecco Sicuramente è un passaggio che allevia diciamo se tu riesci ad unire queste due cose facendo bene il business plan hai un documento in meno da preparare o forse lo prepari a negato nell'altro e se sei da solo sei un freelance è un aiuto è un aiuto non da poco Anche perché la mia impressione è documentata dai miei conti è che soprattutto all'inizio quando ci si mette in proprio si investe tantissimo in formazione che poi non viene utilizzata per cui ci viene la fregola di sapere subito tutto diventare subito pro su tutto quindi al di là di approfondire magari le conoscenze legate direttamente al nostro mestiere quindi migliorarsi nel mio caso ad esempio migliorarsi come programmatori quando ci si mette in proprio ci viene poi questa fregola di essere bravissimi a gestire i social bravissimi a gestire i soldi curare il nostro personal branding fare il piano marketing fare il business model fare il business plan e poi lì i conti cantano nel senso che se noi al primo anno di attività impegniamo più tempo ad analizzare il business model il business plan passiamo meno tempo a fatturare che invece è quello che dovremmo fare principalmente nella nostra giornata lavorativa sicuramente io avendo passato la vita nell'ufficio marketing anche il marketing plan non viene fatto come non viene fatto il business plan e come non viene guardato il business model diciamo che si va avanti la giornata quindi non è solo una prerogativa dei freelance le aziende italiane purtroppo hanno grosse lacune strutturali su questi tipi di tematiche è per quello che ne parliamo perché magari portiamo un po' di cambiamento sicuramente il business plan quando lo chiedi tutti dicono di averlo se chiedi di mostrarlo nessuno l'ha scritto allora c'è quasi un pudore perché alla fine tutti dicono sì sì l'ho fatto ce l'ho nella mia testa questo è il primo aspetto il secondo aspetto che non c'è scritto ed è perennemente rolling sì allora questo è un altro problema tipico di freelance e di aziende ovvero che le cose vengono dette spesso in riunioni inutili e lunghissime vengono fatte delle minute post riunione in cui si dicono un sacco di cose e poi le cose non sempre vengono fatte nel caso specifico o vengono cambiate prima di iniziare a farle vengono cambiate ci sono tutto n.mila casissimi nel caso specifico del business plan io penso che dal punto di vista dei freelance e piccoli imprenditori e artigiani ci sia una paura strumentale ovvero se vedono dei business plan fatti magari con la camera di commercio o con dei servizi che ci sono in quasi tutte le province italiane per mettersi in proprio sono dei tomi scritti in word con n.mila tabelle in excel con tantissimi numeri ti vengono chiesti soprattutto la prima volta ti viene chiesto di fare uno sforzo d'astrazione pazzesco perché ti viene chiesto di pensare quanto può costare questa tua attività quanti soldi potrebbero entrare dalla vendita dei tuoi servizi quindi c'è proprio un timore rispetto allo strumento non si vanno neanche a vedere i contenuti cioè si pensa che sia una roba terrificante da fare e da scrivere e poi appunto ci si confronta con una forma scritta molto prolissa che può non è particolarmente invitante l'idea invece di questo io sono veramente grata a questa americana è un libro che ho comprato proprio il primo anno da freelance quindi questi soldi andavano a finire anche in queste cose qua questa parte della formazione ha funzionato questa parte qua della formazione ha funzionato in realtà vedi non ha funzionato perché io l'ho comprato nel 2011 e poi sono dovuta arrivare in rosso nel 2013 prima di prenderla in mano perché ahimè non basta comprare i prodotti di formazione per imparare a fare le cose poi bisogna mettersi a lavorare questo libro che si chiama The Right Brain Business Plan Jennifer Lee è una coach americana una business coach americana che mi ha aperto un mondo perché il suo business plan era fatto tutto di disegni era fatto di file da scaricarsi nei quali fare i collage e fare cose del genere ora io comunque i numeri li amo molto e anche i bit quindi quello era uno strumento troppo creativo perché mi diceva compra le riviste ritaglia fai i collage io non sono non tutti sono fatti per quella buona dall'italia e allora il mio libro è nato proprio da quello da dire ok sono stata vent'anni in azienda e ho visto azienda andare a ramengo perché non avevano mai fatto il business plan quello diciamo classico tradizionale ho preso questo libro che vuole che io mi metta a ritagliare le riviste ma manco morta lo faccio come posso mettere insieme queste due esperienze per creare una cosa che funziona per me e così è nata quindi la gente non lo scrive perché è convinto che sia importante la forma invece non è importante la forma quello che è veramente importante è il contenuto è l'analisi della nostra attività delle nostre competenze di cosa vuole il mercato dei soldi che ci servono per andare avanti se poi questo viene fatto su un foglio Excel o viene fatto su un foglio a tre e scritto a mano o viene fatto con un collage fotografico non importa questo è verissimo il temo che l'approccio è una montagna troppo alta da scalare possa essere lo scoglio su cui naufragano i piccoli cioè le piccolissime aziende e i freelance secondo me è lo scoglio in cui naufragano invece sul business plan le aziende più grandi più strutturate che poi hanno persone adeguatamente preparate al loro interno per poter fare un business plan perché aziende di 400 500 persone sicuramente qualcuno che sa fare di queste cose ce l'hanno all'interno se non hanno i consulenti sia un problema di tipo psicologico cioè io non metto un numero sulla carta perché poi resta lì e mi ricorda che non sto centrando l'obiettivo mi ricorda che ho un problema a capire il mio business model mi ricorda che non sono in grado di capire perché i clienti comprano da me questo anche questo io ad esempio mi ricorderò per sempre avevo lavorato a un certo punto della mia vita in un'azienda in cui si faceva il budget per l'anno successivo e poi si cambiava ogni 15 giorni questo budget che è una una sì però non quello dei premi eh cioè quello dei premi restava il primo che era quello più alto no io eravamo un'azienda piccola i premi non ce l'avevamo però da un lato è giusto perché ovviamente se il conto economico cambia anche il budget cambia se tu hai messo 50.000 euro di comunicazione l'hai fatto fatturato da un milione di euro se tu hai fatturato 500.000 euro magari quei 50.000 euro non ce l'è però era un continuo non era mai capiamo perché abbiamo incassato 500.000 euro e non un milione cioè era sempre andiamo a modificare il file Excel che è la cosa più facile da fare cioè far quadrare i conti è una roba facilissima capire perché i conti non stanno andando bene è un esercizio di autocoscienza che non tanti sono pronti a fare infatti nelle grandi aziende il business plan viene confuso il più delle volte col conto economico per cui si mettono giù dei numeri e non si fa invece tutta l'analisi che dovrebbe portare a questi numeri ovvero le forze dell'azienda il mercato il cliente il marketing i fornitori eccetera eccetera questo è questo è il grosso problema delle grandi aziende che appunto non hanno dei business plan hanno dei conti economici questo questo è vero è vero è anche vero che il business plan è purtroppo un grillo parlante che per quanto fastidioso Pinocchio avrebbe fatto meglio ad ascoltarlo ecco quindi magari c'è lo scoglio di dire se io metto Roma nero su bianco poi resta e mi accorgo io perché magari non è ancora il superiore è proprio l'imprenditore che dice mi accorgo io che ho toppato per cui onde evitare questa autofustigazione io non lo faccio proprio così ogni tre secondi lo cambio non è sicuramente il modo in cui si fa una lunga strada però no infatti devo dire la verità che la maggior parte dell'azienda in cui ho lavorato in vita mia che non hanno seguito questa strada poi hanno sempre avuto un sacco di guai in alcuni casi anch'uso anche in modo molto molto brutto ecco no va bene quindi il grillo parlante può essere molto molto utile ci stacchiamo due secondi per dare spazio agli sponsor e poi torniamo subito con con altre cose interessanti sul business plan quando si romperà il pc del capo quando si accorgerà che glielo hanno rubato dalla macchina semplice sempre nel momento meno opportuno mentre sta scrivendo una relazione importante mentre sta buttando giù il preventivo del secolo oggi i pc come i server possono essere messi in alta affidabilità con il virtual desktop di safety cloud con safety cloud il tuo capo potrà accedere al suo desktop con le sue icone e i suoi software esattamente come lo ha lasciato da un qualsiasi pc o da un qualunque dispositivo mobile windows apple e anche android con safety cloud il tuo capo tornerà a lavorare in pochissimi istanti senza accorgersi della differenza rispetto al suo pc ci troverà a microsoft office le sue applicazioni preferite l'irp software dedicati al suo lavoro persino il cad potrà anche stampare da qualsiasi stampante senza dover installare alcun driver cosa aspetti a provare direttamente la demo online fatta apposta per gli ascoltatori del podcast vai su www.safetycloud .it slash merita www.safetycloud.it slash merita per provare fin da ora la tranquillità del virtual desktop e per accedere allo sconto riservato agli ascoltatori vuoi provare il virtual desktop vai su www.safetycloud.it slash merita e inizia la tua demo con un click bene Francesca mi hai convinto mi hai assolutamente convinto voglio scrivere il mio business plan nel senso che è importante perché anch'io poi alla fine non l'ho messo nero su bianco e quindi io voglio scrivere il mio business plan voglio anch'io avere il mio grillo parlante che mi ricorda dove andare cosa posso fare da dove inizio perché il problema è sempre il primo passo il problema è il primo passo allora inizi da un bel foglio di carta in cui ti fissi cinque punti cinque punti fondamentali che poi possono essere approfonditi esplosi e possono diventare delle così delle descrizioni molto molto significative per per la vita del nostro business però intanto iniziamo a prendere un foglio e ce le segniamo proprio a mano e buttiamo dentro nessuno ci guarda nessuno ci giudica possiamo scrivere tutto quello che ci pare la prima è descrivere esattamente cosa sappiamo fare la passione diamo per scontato di avercela tutti quindi quando diciamo trasforma la tua passione in lavoro no non basta ahimè mi spiace deve esserci anche devono esserci delle competenze bisogna essere in grado di fare una cosa possibilmente una soltanto e non 125 mila perché sennò poi ci si perde un po' che possa aiutare l'umanità dove l'umanità è il secondo punto ovvero il mio cliente il cliente è il grande assente delle riunioni aziendali nessuno rappresenta più il cliente questa è una cosa tragica perché il cliente nelle riunioni aziendali ma non solo non ti credere anche nei discorsi fra freelance il cliente è un rompiballe e no cari miei cioè il cliente è la linfa vitale se non esiste il cliente noi possiamo avere un prodotto che spacca possiamo avere tutta la passione di questo mondo possiamo avere delle competenze da premio Nobel ma se non stiamo risolvendo i problemi di un cliente molto reale non abbiamo niente in mano ok quindi al centro di qualsiasi business di qualsiasi operazione deve proprio starci questo cliente che va molto coccolato che va sicuramente educato per il bene suo e del quale dobbiamo fare un identikit verosimile per capire a chi stiamo andando a vendere si parla tanto di cliente ideale e secondo me questo ha dato luogo ad una serie di incomprensioni il cliente ideale non è uno perfetto che ci paga ci paga in tempo come in tempo prima in anticipo cos'è il tempo certo è vero in anticipo poi non si lamenta cioè paga con lettera di credito irrevocabile va bene tutto quello che noi facciamo no non è quello il cliente ideale è una persona con dei bisogni molto precisi appunto una persona si fa questo esercizio proprio nel marketing della buyer persona è il Giovanni di turno che ha bisogno di un sito nel mio caso fatto in un determinato modo con determinate caratteristiche e io posso rispondere al suo bisogno se io e questo Giovanni non ci incontriamo mai è un problema io posso essere anche tanto brava lui può avere tanto bisogno ma se le nostre strade non si incrociano è un problema a questo punto so chi è Francesca so chi è Giovanni devo creare un'offerta che lui non può rifiutare l'offerta che non può rifiutare non è al ribasso non è il prezzo più basso è creare un prodotto o un servizio che risponda ai bisogni di Giovanni quindi non è semplicemente fare un sito è fare un sito che ha le caratteristiche che servono a Giovanni Giovanni mi avrà raccontato i suoi bisogni e io avrò trovato una soluzione per risolverglieli anche perché buttare un prodotto sul prezzo è il miglior modo per avere una concorrenza spietata terribile terribile poi guarda in qualsiasi in qualsiasi settore o la mai la concorrenza è tale per cui buttare tutta la strategia di marketing di sviluppo business sul prezzo è sicuramente una strategia destinata a fallire perché se anche io lo metto a 100 domani ci sarà sicuramente qualcuno che lo vende a 100 meno 1 e Giovanni va a 100 meno 1 se non sente che il prodotto che io ho creato per lui risponde proprio al suo bisogno questo è è una cosa anche che si fa un po' fatica all'inizio a capire ma quando poi si capisce che concentrarsi su una nicchia concentrarsi su alcune delle nostre competenze e non su tutto è una strategia vincente poi lo si fa molto più tranquillamente che non all'inizio tra l'altro la scusa fondamentale di ogni commerciale se tu hai mai parlato con un commerciale che il cliente non ha comprato perché gli altri gli hanno fatto un prezzo più basso non è mai che noi non avevamo i rapporti non avevamo il prodotto la feature no sempre il prezzo più basso no infatti è una battaglia persa in partenza che poi magari la grande azienda può comunque sopravvivere anche su questo perché probabilmente anche lei può fare questo tipo di manipolazione tu come me sei un grande fan del libro di Simon Sinek credo si dica così start with why partire dal perché e lui parla proprio delle manipolazioni in senso non negativo non con un'accezione negativa però proprio il fatto che buttarla sul prezzo e stai manipolando il cliente a comprare in quel momento ma poi il cliente non si affezionerà a te allora la grande azienda forse ce la può ancora fare ma io ho dei grossi dubbi ma sì perché la concorrenza adesso è globale diciamo che la grande azienda ha anche dei flussi economici finanziari per cui ce la può anche fare il piccolissimo imprenditore l'artigiano anche con delle ditte belline d'eccellenza con un po' di dipendenti il freelance queste cose non le può fare perché per un freelance la differenza tra incassare 1000 euro e 900 è enorme vuol dire che quel mese lì non può pagare le bollette sicuramente sicuramente quindi sicuramente rifletterci il quarto punto sul quale bisogna nel nostro foglio riflettere sono appunto i soldi quindi partire dai propri conti ma non lavoravamo per la passione non lo so io ho sempre sperato di trovare un marito ricco purtroppo non ce l'ho fatta quindi no mi tocca proprio lavorare per i soldi mi spiace alla copp la spesa non la paghi con la passione purtroppo no purtroppo no purtroppo no mi tocca proprio cacciare il grano è una bella sfiga però ce la faremo a vincerla no ce la faremo assolutamente io voglio dire sono tre anni che faccio la libera professionista e mi pago lo stipendio non sto mettendo da parte i soldi per la pensione come invece vorrei ma secondo me è una questione di quest'anno cioè io che invece sono una grande pianificatrice e controllatrice di conti siccome ho tre anni in cui vedo un trend vedo i numeri so che appunto a meno che non caschi la meteorite sul mio ufficio il prossimo anno quindi nel quarto anno di attività entro in un meccanismo in cui riesco anche a mettere i soldi da parte per la pensione integrativa quindi parto dai conti questa è una cosa fondamentale quello che stai dicendo perché tu hai già una visione a tre quattro cinque anni che è il periodo in cui una partita IVA ma anche poi un'azienda dovrebbe vedere perché non si fanno i conti al dopodomani ma neanche all'anno e basta no certo diciamo che se già facciamo quelli all'anno stiamo già facendo una cosa in più rispetto magari al nostro diretto concorrente ok quindi questo punto in cui proprio vi invito a tirare fuori le bollette a tirare fuori gli scontrini a stampare l'estratto conto della carta di credito a stampare l'estratto conto di Paypal e proprio per capire quanto costa questa nostra attività e nel caso dei freelance anche inserirla in un contesto di nucleo familiare per cui magari capire davvero quanto costa vivere ok in modo da sapere quanti soldi dobbiamo portare a casa ma non limitiamoci a questo perché appunto la matematica è facile da sistemare quando non è purtroppo non sappiamo quanti soldi entreranno però magari possiamo un po' tagliare i conti e diciamo i costi e quindi diciamo che a fine anno ce la sfanghiamo non basta questo dare un prezzo a un prodotto è una questione altamente emotiva e che ha molto a che vedere con i conti ma tantissimo a che vedere col marketing e col nostro posizionamento sul mercato ok quindi iniziamo a guardare anche cosa succede intorno a noi se tutti vendono i siti a 1000 euro noi possiamo decidere di continuare a venderli a 1000 euro di venderli a 800 perché vogliamo lo sconsigliamo ma lo vogliamo fare perché in quel momento lì abbiamo bisogno di fare cassa oppure possiamo decidere di venderlo a 2000 euro e a dire vuoi lavorare con me tu Giovanni che hai quel problema lì io quel problema lì lo capisco perfettamente però lavorare con me fa 2000 e non 1000 come quell'altro che ti dà una soluzione che forse non è proprio la tua ok quindi i numeri sono importantissimi e infine l'ultimo punto ne abbiamo già un po' parlato parlando degli altri è come faccio a far sapere a Giovanni che io esisto che io ho in tasca la soluzione a tutti i suoi problemi e questo lo faccio col marketing che non è il commerciale io per anni mi sono rifiutata di fare operazioni di marketing perché mi sembra di essere la venditrice di pentole che invita le vecchiette alla gita non so se si fa in Romagna però in Piemonte è molto comune le vecchiette vengono portate a fare la gita in Liguri al mare e nel viaggio di andata e ritorno gli si vendono le batterie di pentole io ho sempre pensato che il marketing fosse un po' quella roba lì invece ho capito che è tutt'altra cosa dipende dalle industrie ma c'è anche di peggio ci sono dei mercati così drogati che tu vendi una caldaia o un idraulico in base a c'è in omaggio una bicicletta o un televisore cosa serve a casa? diciamo che noi oggi stiamo mettendo giù un sistema molto molto bello stiamo cercando di creare l'ecosistema piccola azienda mosso dalle migliori intenzioni però sì effettivamente ma come in tutti i lavori e in tutti i campi ci sono delle aberrazioni però ci sono anche dei begli esempi la mia idea è sempre un po' di cercare di emulare quelli senza pensare che sia tutto rose e fiori ovviamente però però sicuramente anche lì capire qual è il tipo di marketing che funziona per noi e come far capire alle persone che le possiamo aiutare è un lavoro enorme non è detto che vadano bene i social non è detto che vada bene online non è detto che vada bene offline lo capiamo solo guardando tutto quello che abbiamo scritto prima ovvero quali sono le nostre competenze qual è il nostro modo di comunicare chi è questo cliente come gli posso risolvere i problemi dove si trova questo cliente magari ci rivolgiamo ad un target over 70 il nostro prodotto si rivolge a un target over 70 prima di fare una campagna su facebook chiediamoci se i figli di quel settantenne stanno su facebook perché magari andiamo a colpire loro e non il settantenne la cosa che mi piace molto è che hai usato la parola marketing non vendite perché secondo me ormai è un termine un po' tramontato perché le piccole aziende comunque portano avanti questo discorso da anni cioè io nella maggior parte delle aziende in cui ho lavorato sotto i 15 dipendenti c'era un responsabile marketing e vendite oppure comunicazione e vendite cioè è tutto un po' insieme però penso che chi inizia adesso o inizia adesso oppure adesso oggi è il giorno che dice adesso cambio un po' le cose fare un po' più di chiarezza anche su su cosa fa ognuna di queste figure sì soprattutto sapere dove sono i clienti perché poi le azioni di marketing le fai dove sono i clienti se i tuoi clienti sono ragazzini che stanno su snapchat tutto il giorno è un discorso se sono invece anziani che vanno alla bocciofila è un altro a me se non concesso che questo esista ancora perché io ho l'esempio in casa mio padre ha 76 anni è su facebook regolarmente ha whatsapp ed è pieno di relazioni che gestisce egregiamente quindi l'età è un anche lì però diciamo che anche la sua abitudine d'acquisto probabilmente è un settantenne anche molto avanzato tecnologicamente se tu gli dici compra l'apparecchio acustico adesso dico proprio una cavolata anche di stereotipi pazzeschi scusatemi se gli lo dici tu è un conto se gli lo dici magari il suo il suo amico che gliel'ha fatto il nipote se vede un ad su facebook compra non lo so ogni mercato ha studiato e va analizzato io ho una perplessità che non è esattamente mia ma è quella che viene usata da ogni buona persona per smontare tutto quello che abbiamo detto cioè i tempi sono così veloci a cambiare oggi non è più valido quello che c'era ieri perché devo impegnarmi a fare un business plan se domani del domani non vi è certezza ok allora la sofferenza enorme è la prima volta che si fa perché la prima volta ti trovi a dover tirare fuori a fare proprio il download del cervello e quindi tutte queste cose meravigliose alle quali hai pensato ti trovi per la prima volta a dovergli dare una forma che abbiamo visto non è necessariamente la forma scritta però una forma gli anni successivi o la revisione di questo business plan è più veloce perché non devo partire da zero tutte le volte tutte le volte che sento la necessità di correggere il tiro e anche per questo secondo me più usiamo delle forme strutturate formali e più è facile sentire che possiamo cambiarlo ok perché se gliel'abbiamo fatto fare a un consulente di non so che genere lui magari ci ha chiesto anche un sacco di soldi per fare quella roba lì e poi ci ha dato un manuale rilegato in pelle umana cioè come faccio a dirgli senti guarda ciccio io ho pensato che forse il mio target non è più Giovanni ma è Giuseppe ok invece se me lo faccio io in autonomia soprattutto appunto magari poi avrò bisogno del consulente finanziario per verificare la parte economica ok soprattutto se è una struttura complessa però diciamo perché non inizio a mettermi chiare quelle cose perché non inizio a chiarirmi quelle cose io in un modo informale che funziona per me e poi mi rivolgo allo specialista per le altre cose in questo modo siamo anche meno intimiditi dal mezzo ad esempio i miei business plan sono sempre stati fatti su foglietti volanti cartonati tenuti insieme da un anello perché così tutte le volte che io devo cambiare una cosa la cambio certo molto pratico poi se è una cosa che va a cambiare tutte le altre voci allora rifaccio tutto da zero ma se è una voce che sta in piedi da sola posso anche decidere di rivedere solo quella certo magari il Giovanni si è spostato dalla bocciofila e ha cambiato hobby e io devo rimodellare il mio marketing su quell'aspetto lì però resta la premessa di chi sono io chi è lui e il servizio che gli posso offrire devo solo andare a capire dove andarlo a ritrovare io credo che abbiamo aperto un mondo ai nostri ascoltatori e che sicuramente avranno voglia e interesse ad approfondire questa cosa io so che tu fai anche dei corsi dove ti possono trovare in rete i nostri ascoltatori in modo da farti domande restare in contatto con te vedere il calendario dei corsi e vedere i prossimi libri che sono in uscita sì in un sacco di posti perché io sono logorroica e quindi parlo e racconto in un sacco di posti anche perché io sono una grande sostenitrice del raccontare i fatti propri ma come dicevamo all'inizio se posso raccontare i miei errori e possono essere utili a qualcuno per evitare di fare gli stessi di solito lo faccio molto volentieri lo faccio anche sia nella sfera professionale che nella sfera privata perché sono un po' hippie e quindi credo che il mutuo soccorso sia sempre una bella cosa il mio sito è francescamarano.com quella è la centrale in cui racconto racconto dei siti racconto del business plan dico dove vado a fare i corsi dico quando escono dei libri e dove posso essere assoldata esiste poi cpb che è proprio scritto un nome infelice ahimè dal punto di vista dell'asseo ma oramai siamo tanto affezionati quindi ce lo teniamo c-p-i-u-b c-p-u-b proprio letteralmente sì comunque non preoccuparti perché mettiamo poi tutti i link nello show è un nome infelicissimo veramente non si può non si può posizionare da nessuna parte col nome stesso perché ognuno lo scrive in un modo diverso su facebook ho una pagina in facebook che si chiama Francesca Marano su twitter e instagram ma lì racconto un po' più la mia vita così di mamma libera imprenditrice libera professionista ah benissimo io penso che ci saranno tantissime altre occasioni di sentirci e adesso i nostri ascoltatori potranno sicuramente andare a scuriosare immediatamente bene e a guardare un po' i tuoi account sei presentissima sui social e vedrai che non mancheranno le occasioni grazie Francesca di aver tenuto a battesimo la prima puntata grazie arrivederci a presto grazie 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 a presto grazie a te ciao bene siamo arrivati al termine di questa primissima puntata del nostro podcast oggi abbiamo parlato di uno strumento fondamentale che ogni azienda piccolo o grande che sia dovrebbe avere il business plan tutti gli appunti e i link menzionati durante lo show compresi i titoli dei due libri citati da Francesca li potrai trovare su